Ciao a tutti ragazzi, un nuovo video, come state? Spero bene e si sembra fare la guida turistica Serena fai gli addominali, molto bene Così, hai riso Hai riso È una patuta Perché effettivamente siamo a giro per Firenze a fare un po' la guida turistica Perché come vedrai, su quello zaino rivestito di arancioni antiacqua Perché come sempre piove, una settimana piove e basta Niente triste Riccardo Rizzoli ha fatti un saluto Ok, perché è al concerto di Renato Zero Buonasera, sì, siamo al concerto di Renato Zero a Firenze perché A Firenze si fa, è tutto un complotto perché A Firenze si viene a pattinare e insegnare Renato Zero piove a Firenze e io quest'anno uso una canzone per pattinare di Renato Zero Quindi è Quindi è fatto anche un super spoiler del classico di quest'anno è Renato Zero ha scritto 500 canzoni Quindi è azzeccato e qua, quella giusta È già un miracolo Tutti, ma usi le di gaga No, le di gaga italiane La fine No, le di gaga italiane 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 Un brindisi Ciao, è un brindisi Un brindisi alla escape on skate Rivea, mi piace ancora Si, mi piace Andiamo, parlando Comunque Firenze non è il butto in città No, è bellissima Firenze, per me le più belle città in Italia sono Firenze e Verona, cioè quelle in cui ci sposterei, da vivere, perché poi c'è Roma, c'è una bella, però non ci vivrei, Milano, Bellina, ne ho abbastanza, anche Venezia è bella, e poi l'accento fiorentino mi piace. 3 minuti prima, 3 minuti video di chi ci arriva, è già tanto, e come stai ragazzi, perché saremo per sempre in ritardo, venite qui, venite qui, come è questo video? Sì, lei è brava, siamo a trasferare aria fiorentina, tanto oramai qui ho la family, oramai saprei trasferirmi a Firenze, certo, questa è questa strada. No, scusatevi perché ci sta, se ce la specchiano, non hanno ancora imparato a fare le vlog, è questo, è grave, è quello. eeeh eccoci qua ragazzi benvenuti in un nuovo video ma voi avrete la possibilità di diventare famose con questo canale già come un vlog se ti abilete, avete una renafore ma te cosa facciamo veramente online vero? e io lo faccio lo faccio, lo faccio intanto abbiamo da prendere tempo lo faccio solo se te che ti specki ti specki ragazzi serena fedi e becca miele serena fedi e becca miele serena trottino basso giacomo masi e riccardo riccsoi guardate che squadra cazzo e niente ragazzi noi ci diamo un po' di film grazie a tutti e alla prossima video e ciao rock n roll basta ragazzi non ne posso più piove e basta c'è veramente una cosa orribile non si vedrà sicuramente ma tutta la strada è super molle e e quindi mamma mia sono veramente indietro di video non riesco a fare delle serie stavo facendo né quel tutorial ma neanche quella dei suv perché è veramente super molle ed è un macello madonna che beh che comunque torniamo qua nella nostra postazione perché il video che avete visto è un po' imbarazzante non l'ho fatto così in maniera spontanea e mamma mia ero veramente impappinato ero molto contento che Enrico era venuto a trovarci a Firenze lui era per il concerto di Rono Zero però ho deciso di arrivare un po' prima e di fare questo giro a Firenze con con noi e con le ragazze della scuola sono super contento si trova bene con noi noi ci troviamo benissimo con lui infatti potrebbe uscire una collaborazione ma non vi spoilerò niente in futuro questo per avere degli spoiler iscriviti al canale attiva la penna e metti il piacere al video io vi volevo chiedere scusa se sono poco presente su youtube in questo periodo le cose sono due così faccio uno spoiler la prima cosa è il tempo cioè ragazzi è veramente una cosa incredibile anzi guardate un attimo ve lo faccio vedere proprio direttamente così perdano un po' di tempo perché questo video è brevissimo altrimenti però ragazzi vi giuro che sono veramente ah cado ok due settimane ma vi garantisco quasi tre che piove cioè ieri c'era era bel tempo ma dovevo fare però guardate che fighe le scale illuminate fatte da me eh veramente fatte da me è veramente un mascello e questa è la situazione cioè io è due settimane che sto in questa situazione qua cioè è tutto molle è tutto molle sta piovendo è veramente un mascello cioè piove a diritto costantemente ed è veramente una bega a finire a fare i video c'è anche tutorial non li voglio fare in non li voglio fare in palestra perché li voglio fare con quella qualità con il drone e tutto però ragazzi è veramente un mascello così comunque ragazzi io come sempre sulle tre andiamo a rispondere vi voglio di iscrivervi al canale non sono sparito comunque sugli short ne faccio uno al giorno altrimenti ho un nuovo short e niente spero di riuscire a ricominciare a riprendere appena il tempo ce lo permette perché è veramente una mascello così ciao ragazzi iscrivete al canale e mettete il video ci amo grazie a tutti